Trovato cadavere di un anziano tra le fiamme di un rogo nel Crotonese. Il cadavere di un anziano uomo è stato rinvenuto a Ciro nel Crotonese da una squadra dei Vigili del Fuoco mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio. Si tratta di Carmelo Girantineo, 77 anni, di Ciro, il cui corpo senza vita riverso per terra è stato notato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ciro Marina, chiamata a domare un incendio di sterpaglia in un terreno adiacente alla strada provinciale 24 che conduce al comune di Ciro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo e i carabinieri di Ciro Marina. L'uomo da un primo esame non sarebbe morto a causa dell'incendio. Sono in corso accertamenti sul corpo che non era carbonizzato.